Amiche e amici di Passione Taranto, eccoci qui a commentare questa vittoria importantissima del Taranto. Oggi era importantissimo vincere. Incredibilmente, questa volta ci hanno regalato il primo tempo. Il primo tempo il Taranto sembrava il Real Madrid, potevamo fare almeno tre gol. E alla fine quasi quasi la pareggiavamo, questo primo tempo. Invece fortunatamente poi siamo riusciti a segnare il secondo gol anche in maniera abbastanza fortuita. Ma la vittoria è stata meritatissima, perché poi la Turris non ci ha assolutamente messo in pericolo. Non ha fatto tiri in porta, praticamente. Bene, bene tutti, veramente un primo tempo sontuoso, se non che la dobbiamo buttare dentro. Finalmente Bifulco, lasciatemelo dire, finalmente Alfredo Bifulco. Oggi ha giocato bene, il primo tempo è stato sempre nel vivo del gioco, è stato pericoloso. Deve tirare, deve tirare col sinistro, ha avuto la palla sul sinistro nel primo tempo. Tira, tira, ce l'hai lì la palla, oppure la scarichi a Canutè. Canutè stesso è arrivato al tiro. Molto bene tutti. Nota stonata, un po' gli infortuni, ma pure tu Capuano, ma dopo il gol del 3-1, ma toglilo Calvano, sta giocando sempre, sta giocando sempre, in continuazione, non può resistere così Calvano. Toglilo, fai entrare Bonetti, fagli fare 10 minuti, 15 minuti, quando lo prende il minutaggio, sto ragazzo. E insomma, secondo tempo è stato di sofferenza, è stato di sofferenza e siamo stati bravi finalmente a essere cinici, cioè a sfruttare l'errore della Turris. Però questa la dovevamo chiudere nel primo tempo, non prendere gol da una squadra che non ha mai tirato in porta, non ci ha mai impensierito. È stata una vittoria strameritata, abbiamo ritrovato il pubblico, era una vittoria che ci voleva. Ora però serve veramente una grande prova in trasferta, perché veramente la prossima è importantissima. Molto bene tutti, veramente non riesco a trovare qualcuno che ha giocato male. E insomma, era importante vincere, anche perché nel pubblico c'era un po' di malumore per la prestazione, ma oggi veramente la prestazione della squadra ha dimostrato che questo Taranto si sta ritrovando. Speriamo di recuperare Fabbro, che è infortunato, perché è molto importante, soprattutto per dare il cambio a Canutè. Canutè quando entra a partita iniziata è devastante rispetto a quando gioca dall'inizio. E quindi una bella vittoria, importantissima per la classifica, per il morale. Ora andiamo a Francavilla e andiamocela a giocare. Voi nel frattempo iscrivetevi al canale, mettete like a questo video, like alla vittoria del Taranto. E ci vediamo alla prossima partita del Taranto. Sempre Forza Taranto!